A Giove, stavo pensando che sarebbe bellissimo se potessimo sommare i voti di matematica con quelli di educazione fisica, almeno facendo media, arriverei alla sufficienza. Se si potesse fare, io sommerei quelli di italiano con quelli di scienze, così mi alzerei la media. Mi spiace infrangere i vostri sogni, ragazzi. Ormai ci siamo abituati. La matematica, ragazzi, non permette che si possano sommare oggetti diversi tra loro. I voti di matematica e i voti di educazione fisica sono troppo diversi tra loro. Non possiamo metterli insieme. Come non potremmo mai sommare tre mele con due banane. Ma di cosa sta parlando? Tre mele più due banane. Farà cinque? Ma cinque cosa? Non possiamo dirlo, perché non possiamo mettere insieme oggetti così diversi. Quello che possiamo fare è sommare tre mele con due mele, la cui somma è cinque mele. Oppure tre banane con due banane, da cui otteniamo cinque banane. Cioè possiamo sommare solo oggetti dello stesso tipo. Facendo un paragone, possiamo dire che tre mele e due banane non sono due monomi simili. Vi ricordate cos'è un monomio? È un'espressione letterale composta da un coefficiente numerico e da una parte letterale, legati da sole moltiplicazioni. Nella parte letterale ci sono le lettere e i relativi esponenti. Attenzione! Se due monomi hanno la stessa parte letterale, allora sono detti monomi simili e possiamo sommarli come tre mele con due mele. Se invece due monomi non hanno la stessa parte letterale, allora non possiamo sommarli, perché non sono monomi simili come tre mele e due banane. Quindi possiamo sommare due monomi anche se hanno coefficienti diversi? Esatto Ferrari! Tre mele e due mele hanno coefficienti numerici diversi, ma possono essere sommati perché ci interessa che sia uguale solo la parte letterale. Quindi Moretti, mi spiace dirti che non si possono sommare i voti di matematica e quelli di educazione fisica. Se consideriamo il tuo 4 di matematica e lo chiamiamo ad esempio 4M e poi un bellotto di educazione fisica e lo chiamiamo 8E, ci accorgiamo subito che non possiamo sommare 4M più 8E, perché i due monomi considerati non sono monomi simili. Quello che possiamo fare è sommare tra loro i voti di matematica, per esempio 4M più 5M, che è uguale a 9M, o i voti di educazione fisica 8E più 9E, che è uguale a 17E. Scriviamo la regola generale. La somma di due o più monomi simili è un monomio simile ai monomi di partenza, il cui coefficiente è la somma dei coefficienti dei monomi. Possiamo subito vedere un'applicazione di questa regola. Prendiamo questa somma algebrica. 3AB più 5AB meno 2AB. Possiamo sommare questi monomi? La risposta è affermativa, possiamo farlo, perché i tre monomi coinvolti hanno tutti la stessa parte letterale AB. Allora la regola dice che il monomio somma è simile ai monomi di partenza, quindi anch'esso avrà come parte variabile AB, e il suo coefficiente sarà pari alla somma dei coefficienti, 3 più 5 meno 2. Il risultato di questa somma è quindi 6AB. Proviamo a fare un altro esempio. 2X al quadrato più 12X al quadrato meno 4X. Possiamo sommare questi monomi? Sono i primi due. Manca il terzo alla lettera X. È corretto quello che dice Ferrari. Possiamo sommare soltanto 2X al quadrato e 12X al quadrato, perché hanno la stessa parte letterale. La parte letterale, vi ricordo, comprende tutte le lettere con i relativi esponenti. X al quadrato e X non sono monomi simili, perché hanno la stessa lettera, ma esponenti diversi. Quindi nel nostro caso possiamo sommare 2X al quadrato più 12X al quadrato, che fa 14X al quadrato, ma non possiamo sommare ulteriormente meno 4X. Il risultato della somma sarà allora 14X al quadrato meno 4X, perché non possiamo fare ulteriori somme. Quindi lo lasciamo così indicato. Bello! Quindi se sono tutti diversi, non possiamo sommarli e non dobbiamo fare niente. Sì, Moretti, sì. Dai, alla prossima! Grazie! 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 Grazie!